Non è stata una settimana facile per l'Aquila Calcio, la vittoria mancata nello scontro al vertice con l'Arzachena, la vetta che si allontana ed è ora 5 punti, fattori che hanno portato del malumore, esploso nel diverbio tra il tecnico Massimo Morgia e l'amministratore Antonio Ranucci, divenuto anche mediatico perché manifestato a suon di comunicati. Sventate le dimissioni dell'allenatore, il presidente Chiodi ha poi buttato acqua sul fuoco con un ulteriore comunicato diramato ieri. Faremo di tutto per riportare equilibrio e serenità in ogni singola componente, dichiarato Chiodi, che poi in altri passaggi ha evidenziato che la società sta mantenendo gli impegni, che la stagione non è né finita né compromessa e che la questione poteva essere risolta tra le mura di casa senza portarla all'esterno. La risposta più importante comunque dovrà darle il campo e per questo la trasferta di domani all'Anusei è importante, se non delicata, perdere altri punti dalla vetta potrebbe questa volta sì compromettere l'obiettivo stagionale, quello del primo posto. Sempre nel girone G, l'Avezzano ospiterà l'Annorese, reduce dal successo nel recupero col Sansepolcro. Per la scuola marsicana il momento è propizio e l'undici di Pino Tortola cerca il tris di vittorie consecutive. Negli ultimi giorni si è consumata anche la pace tra il patron Gianni Paris e l'imprenditore Leonardo Sterpetti, che torna ad essere main sponsor dell'Avezzano. Lo stesso patron marsicano ha anche specificato che l'unico debito che ha l'Avezzano Calcio è con l'erario per 34.000 euro e che resterebbe a suo carico anche in caso di vendita della società a giugno. Nel girone F la gara di cartello si gioca all'Aragona di Vasto, dove i padroni di casa ospitano il Matelica. Sulla panchina della Vastese si accomoderà per la prima volta il neotecnico Massimiliano Favo, chiamato a sostituire Gianluca Colavitto, cui è stato fatale il K.O. di Re Canati e più in generale la mancanza di vittorie dallo scorso 11 dicembre. A Favo il compito di blindare quantomeno un piazzamento playoff, inizio duro contro un Matelica tuttavia gelato dalla sconfitta nel recupero con San Nicolò, che è una brusca frenata alla rimonta sulla capolista fermana. San Nicolò che dal canto suo ha appena trovato la prima vittoria del 2017, uscendo fuori dal tunnel di una minicrisi, che però lascia un distacco cospicuo dalla vetta. La squadra di Epifani vuole ora riprendere a correre, ma domani al Bonolis affronterà una Re Canatese in forte ripresa con la gestione del neotecnico Soda. Trasferta sul campo della San Maorese per il Pineto, reduce dalla giornataccia di Agnone, dove in un colpo solo si sono interrotte l'imbattibilità del portiere Manzocchetti e la serie di risultati utili consecutivi. Partita ostica col tecnico pinetese Amaolo che, a cospetto della migliore difesa del girone, spera di avere segnali importanti dai suoi attaccanti apparsi appannati nelle ultime gare.